La tensione è forte a Gerusalemme. Il sindaco Nir Barkat esige che centinaia di immobili religiosi e delle Nazioni Unite paghino le tasse comunali da cui erano sempre stati esentati. Si parla di 650 milioni di shekel, 150 milioni di euro, una grossa somma che preoccupa i capi delle chiese della città santa. Una misura contestata che, affermano i diretti interessati, compromette il carattere sacro di Gerusalemme e mette a rischio la capacità della chiesa di esercitare il suo ministero in questa terra, a nome delle sue comunità e della chiesa universale. In un documento sottoscritto da una quindicina di religiosi, tra cui l'amministratore apostolico del patriarcato latino Pizzaballa, il custode di terra santa Patton ed il patriarca greco ortodosso Teofilo III, si ricorda che le chiese cristiane hanno investito miliardi nella regione per la costruzione di scuole, ospedali, case per anziani e bisognose, proprio per quelle strutture per cui ora è il comune, reclama il pagamento delle imposte. Il sindaco, che aspira ad un ruolo di leader nelle file dell'IQ, della maggiore formazione politica israeliana di centrodestra, addossa la responsabilità della misura al governo centrale, che avrebbe imposto alla popolazione di Gerusalemme il fardello delle esenzioni. La polemica sarebbe tutta interna alle autorità amministrative del paese. Con questa mossa, plateale e a sorpresa, Neer Barkat cercherebbe di forzare la mano al ministro delle finanze Calon, ad elargire fondi, finora negati, per la sua città.